Nel dicembre del 1942 i russi sferrano l'offensiva sul fronte del Don con grande schieramento di forze. Numerosi battaglioni protetti da oltre 2000 cannoni e lanciarazzi Catiuscia tentano lo sfondamento delle armate italiane dell'Armir, ma queste oppongono una forte resistenza con frequenti contrattacchi. I nostri primi caposaldi dopo una cruenta battaglia sono costretti a cedere terreno, altri arretrano combattendo. Sì direttore, è quello che sto guardando proprio adesso, un reduce da intervistare. Come ha detto che si chiama? Mele. Sì, Daniele Mele. D'accordo, vado subito. Sì. 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 E i biancos, insomma, quelli dalle labbra bianche. Chiamati così perché mangiano poco e che stanno dall'altra parte. Insomma, i mammutones che poi siamo noi, la povera gente. Ciao onorato, signor federale. Grazie. Grazie a voi. A presto. Bene. Andiamo. Daniele, ma che fai? E le campane? E le campane? E fino adesso cosa facevo? Le campane, sempre la festa. Aiuto, dopo. Le campane. Ciao, con. La festa del patrono ormai era finita e si tornava alla vita di sempre. Con i soliti intrighi e le malignità di paese. Ehi, mammutone. Salute, cornuto. Io sono cornuto e lo so. Ma voi, don Adamo, voi mica lo sapete. Ciao, mammuto. Non farci caso, filiano. Parola di un ciabattino di paese. Non sa quello che dice. Poveraccio. Poi, a mettere d'accordo tutti, ci ha pensato il postino. Don Orvenza. Salute. Don Orvenza. Che c'è, Pasqualino? Posta, Don Orvenza. Chi mi scrive? La patria vi chiama. La patria che? Classe di ferro, Don Orvenza. Ma che vai dicendo? Ancora? Ma io una guerra, l'ho già fatta. E quella d'Africa era una scampagnata. Spagliata. Reggio esercito italiano. Fregatti siamo! Ma vai al diavolo, vai! Andiamo a casa. Adesso mi sentiranno quei tromboni di Roma. Sotto. Prendete pelle! Prendete pe! Prendete pe! Mi? Mi che cosa mi è arrivato? Classe di ferro, fregate siamo! Adesso, mi dispiace, ma io devo andare a salvare la patria. E quindi le campane ve le dovete suonare da solo. Che tanto ci siete pratico di battacchio voi? Oh, l'unico gallo del pollaio! Tu figlio di... Oh, davvero sopra... Figlio di... Tu strazzato, come ti permette il tuo paro? Ma... Tutti calugnatori siete! E che cosa sarà io? Torna presto, mi raccomando. Non ti preoccupare, eh? Viste le haie? Le valigie? Belle e piene sono. I prosciutti e i farmaggi, quelli pesano molto. E di questi tempi si sono fatti preziosi. Filiana. Prendi questo. Grazie. A presto. Abbaidami. Non c'è male, no. Cinque uomini per un cavallo. Ciao. Addio. A non bere. Sta tranquillo. Mi mancherai. Anche tu, amore. Abbaidati. Effisio. Battista, piange. Dai. Dagli ancora un bacio. Vieni. Vieni. Effisio. Deumeu. Effisio. Il bambino. Il bambino. Il bambino. Non correre, Teodora. Attenta. Vieni a prenderlo al distretto. Morto la mia signora. Donna Filiana. Automedonte. 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 Vieni. Vieni. Vieni avanti, mio bell'automedonte. Che bel nome ti ha messo il tuo padrone. Ma dove guardi? Guarda a me. Non avere paura. Donna D'Amo in città dal federale. Io non so se tu sei il più bravo domatore di puledre di Arasolè. Perché se è così, vieni su, vieni. Io ne avrei una che non vede l'ora di metterti alla prova. Vieni. Non avere paura. No. Non è questo, Donna Filia. È che a guardarvi è come guardare il sole. Sagonca mi gira. Allora, hai ancora paura? Che vergogna. Che vergogna. Una come me andare a letto con il suo servo. Beh, allora se è così, scusate. No. No, non ti muovere. Rimani ancora. No. 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 A presto. 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 A presto.